Inaugurata la sezione di Trinitapoli della Croce Rossa Italiana, l'associazione di volontariato e protezione civile che ha già presidi nella BAT, ha aperto una sede anche nella città Ufantina. La Croce Rossa Trinitapolese è stata affidata alla dottoressa Maria Grazia Iannella. La cerimonia di inaugurazione è iniziata con il raduno delle associazioni della BAT, prima della Santa Messa celebrata a Monsignor Stefano Sarcina. A livello etico-sociale abbiamo bisogno di dare un impulso a questi nuovi giovani, giovani bravi di buona famiglia che intendono fare qualche cosa per la comunità, qualche cosa di costruttivo. Intervenire a livello di protezione civile per un discorso di prevenzione, poi altri impegni e offrire un punto di primo soccorso per gli ex comunitari che dovrebbe avvenire nella nostra sede. Poi intervenire con la Caritas sui meno abbienti e quindi partire con una serie di iniziative che mirino un attimino ad aiutare questa fascia sociale. E poi una serie di iniziative in campo sanitario che intendono in qualche modo informare sulla prevenzione di varie malattie e quindi fare una serie di giornate dedicate al diabete, all'ipertensione eccetera. Il gruppo è nascente, è nato qualche mese fa, è nato il comitato provinciale appunto di Andrea, Trani, Biceglie e Trinitapoli. Speriamo di avere una collaborazione così molto proficua con tutti questi comuni nella speranza insomma di raggiungere quelli che sono gli obiettivi definiti già diciamo ad inizio anno. Presenti i vertici provinciali di Croce Rossa italiana e le istituzioni cittadine. Un plauso per l'impegno all'associazione giunto dal sindaco di Trinitapoli Francesco Di Feo. Oggi è una giornata storica perché nasce a Trinitapoli questa associazione della Croce Rossa internazionale. È un fatto sicuramente molto importante perché come diceva si sviluppa ancora di più il volontariato, presidio delle nostre certezze, presidio delle nostre felicità, presidio anche di quella che può essere un'assistenza a tutti i cittadini. Sono convinto che questa associazione insieme con le altre arricchiranno il nostro patrimonio associativo e solidale e sono convinto che Trinitapoli ancora una volta riuscirà ad assegno di grande maturità e di grande partecipazione. Grazie a tutti.